Carbonio rinforzato con della trama in Kevlar Non riusciamo neanche a aprire la plastica Quanta roba ci ha messo il caso della Carbon RR Che prima della pistata è normale che uno si mette a montare paratelaio e paracorcellone Sono arrivati stamattina? E' un po' chiusa L'abbiamo fatto Olè! Gli ragazzi sono andati Quindi a letto il buon inizio che dobbiamo allentare questi Andiamo Fortunatamente tutto sgancio rapido Dovremmo farcela Noi ci prendiamo anche che ce la facciamo Ci montiamo Questa andrà così Non vorrei che si spaccasse Ma le volte Non basta così E' un lego praticamente cercare di metterla con la carina montata Sì Sì Perché va a bloccare la protezione in carbonio Quindi la smonto E poi la rimonto sopra la protezione in carbonio E poi la rimonto sopra la protezione in carbonio lo spazio dove installare le fascette non è una cosa semplice perché o mettiamo delle fascette molto grandi che vanno ad avviluppare tutta la protezione in carbonio e quindi però si vedrebbero o dobbiamo trovare delle parti nascoste per le fascette piccole si fa quel che si può le fascette sono tutto il problema è vedere dove si mette l'altra fascette ecco non la sento e finalmente sono riuscito a mettere almeno il copriteraio sia da un lato che dall'altro adesso mi applicherò e cercherò di mettere il copriforcellone vediamo un po' già c'è il fiatone ragazzi intanto ve lo faccio vedere solo esclusivamente con le fascette vediamo un po' se reggeranno qui devo ancora rimontare la carena che ho dovuto allargare per inserire il copritelaio in carbonio devo dire che è più completa sicuramente molto più bella così e adesso ci manca il copriforcellone e niente ragazzi io speravo di finire ora montare tutto ma sfortunatamente il para forcellone passa sotto la catena quindi bisognerà smontare la moto e non ho l'attrezzatura per farlo vabbè si vedrà la prossima faccio questa pistata e poi vedremo un po' di montarlo grazie a tutti